Ciao a tutti, sono Lucia Imperio dall'Istituto Superiore Luigi Donati e oggi intervisteremo Giovanni Sannipoli sulla sua passione, cioè il calcio. Quando e come è nata questa passione? Quando i miei fratelli giocavano nel giardino e io ancora non sapevo che sport stessero praticando. Mi incomincio a piacere e un anno dopo decisi di iscrivermi alla scuola a calcio. Da quanto tempo pratichi questo sport? Da quando avevo sei anni, ovvero da otto anni. Quante volte alla settimana vai a un allenamento? Tre volte alla settimana più la partita la domenica. Pensi che sia uno sport impegnativo? Sì. Speri che questa passione possa diventare per te un lavoro? Ci spero, ci credo e appunto è uno sport impegnativo perché se ci credi potrebbe diventare un lavoro.